L'intervista a opera di Meghan Markle e Prince Harry è stata nominata per un Emmy. Ma la decisione ha causato un brutale contraccolpo su GB News. Parlando con GB News, la presentatrice Ellen Scott ha criticato la nomination agli Emmy della coppia reale come un calcio nei denti per i creatori di tutto il mondo che si sono sforzati durante la pandemia per portare avanti il loro mestiere. Ha definito fastidioso il modo in cui Meghan Markle e il principe Harry sono stati riconosciuti nella categoria Outstanding Hosted Non-Fiction Series mentre altri creativi hanno davvero lavorato. Con scarso supporto durante la pandemia, la Scott ha detto. Nemmeno il documentario, intervista di opera, nemmeno la tua opinione sul fatto che sia vero, se sia falso. Ci sono così tanti fantastici creativi che si sono dati da fare e questo è ciò che ottiene la nomination. Questo è quello che penso sia un calcio nei denti per i creativi, ad essere onesti, per i registi, i registi, gli attori e le attrici che lavorano sodo. Soprattutto dopo quest'anno con il Covid che è stato così difficile per le arti, sarebbe meraviglioso dare quelle nomination a persone che hanno davvero lavorato. E per un'industria che ha davvero sofferto questo è fastidioso per me. Ma l'altro comico ospite Steven Allen ha offerto un'opinione diversa sull'intervista e ha suggerito che la nomination spetta al pubblico attratto dall'intervista bomba. Ha suggerito. Non ci sono due modi per aggirarlo. Era la cosa più chiacchierata che non fosse il calcio. Lo ami o lo odi. Ci siamo seduti tutti lì. Lo abbiamo guardato. Ha fatto più di altre interviste. Ma la scotta ha risposto mettendo in dubbio che non credeva nella nomina. Ha aggiunto. Per cosa era esattamente la nomination? Eccezionale saggistica. Voglio dire. Questo è ciò che è fastidioso. Questi registi e creativi. Deve essere un vero calcio nei denti. Oprah with Meghan and Harry ACBS Prime Time Special Trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti il 7 marzo e 24 ore dopo nel Regno Unito tramite ITV È stato nominato nella categoria Outstanding Ghosted Non Fiction Series o Special Sono stati nominati insieme ad altri quattro candidati tra cui il talk show Netflix di David Letterman e Stanley Tucci Searching for Italy Grazie a tutti. Grazie a tutti.